La tredicesima edizione di Olio Capitale, il salone degli extravergini tipice di qualità, si terrà dal 15 al 18 marzo alla stazione marittima, con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo. L'extravergine nuovo ad assaggiare a Trieste libera da quasi tutte le regioni italiane, Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria. Confermata inoltre la presenza degli oli dalla Grecia, della Croazia e della Slovenia. Nonostante la crisi abbiamo visto che quasi tutte le regioni d'Italia sono presenti comunque, nonostante il fatto che il sud sia stato veramente penalizzato dalla natura in maniera eccessiva. La natura, come dicevo prima, vede e provvede, altre zone d'Italia invece sono contente a vedere la Liguria, a vedere la Toscana. Hanno già confermato la loro presenza quasi 200 produttori, molti altri si aggiungeranno nei prossimi giorni. I comuni che partecipano a Olio Capitale infatti stanno ancora selezionando le aziende che prenderanno parte alle esposizioni collettive. Sono invece 231 gli oli extravergine d'oliva che si contenderanno il premio del concorso Olio Capitale 2019. La proclamazione dei vincitori è stata messa in calendario nella seconda giornata di Olio Capitale, sabato 16 marzo alle 11. Come ormai abitudine, Olio Capitale consentirà ai visitatori di usufruire di una serie di eventi, degustazioni particolari come quelle dedicate al binomio Olio extravergine d'oliva-cioccolato, un convegno sull'olio extravergine d'oliva come risorsa culturale turistica, uno sul ruolo del frantoio. La chiusura di Olio Capitale sarà dedicata al mondo della ristorazione. In programma un talk show e la sottoscrizione del manifesto dell'olio extravergine d'oliva, con un confronto per definire le linee guida di un programma che coinvolgerà gli addetti ai lavori per arrivare a definire l'olio extravergine d'oliva non soltanto un condimento ma un ingrediente a tutti gli effetti. Magari il prossimo anno, a metà marzo, riusciremo, se pur non completo, a farla all'interno della nuova fiera congressi di Porto Vecchio e questo sarebbe già una buona notizia.